ma va bene eh adesso morati a tutti allora adesso facciamo caio perico caio perico addia 3 milioni e cento non posso prendere però vediamo un po' facciamo da solo molto semplice virgo cosacca canale di scolo ingresso canale di scolo punto di fuga al modo principale cura facciamo notte sette anni per questo scuola perfetto continuo già stai con la sub e già stiamo in acqua cosacca italiano adesso ci si nuota fino all'entrata viene visualizzata dalla appunto lì giallo la senta le mine vai al complesso di hell rubio di hell rubio vediamo un po' tagliamolo perfetto perfetto così facciamo così facciamo così perfetto tagliamolo entra nel complesso di hell rubio entra nel complesso di hell rubio e sale stiamo su stiamo attenti di non fare troppo rumore ce lo dovremo fare prima primo ucciso questa adesso salta noi dobbiamo dobbiamo avanzare mirare la testa sparato non ha lasciato le chiavi quindi dobbiamo scendere correndo stiamo attenti anche al a non farci scoprire speriamo a questo di testa alla telecamera poi dovrebbe arrivare uno no aspetta facciamo così nascondiamoci tempo è lui che si gira troppo pericoloso adesso in movimento si spara alla testa la telecamera subito perfetto non abbiamo ancora ricevuto le chiavi questo lo si spara niente ancora niente ancora non perfetto non abbiamo ancora ricevuto le chiave molto strano molto strano ma dovrebbe scendere qualcuno eccolo qui questo non lo spariamo gli diamo un colpo in testa queste sono le chiavi le prime chiave poi secondo chiave la seconda chiave questa non serve non ci serve perché essendo da soli non possiamo fare niente le chiave le due chiave possiamo aprire determinate possiamo prendere oro in casa qui e eh anche il soldi e tant'altro dovremmo soltanto andare nel cavo qui che noi avendo le chiave possiamo farlo rubiamo la collana di rupini andiamo a risolvere il più presto possibile questa cosa questa è un po' complicata adesso secondo me così così ecco qua ecco qua trovato in pochi secondi io credo che ci scoprono perchè qui qui non ci si può entrare che non abbiamo entrambi le chiavi non dobbiamo farlo arrivare subito al rosso percorso perfetto ho preso la collana dei rubini un milione e sessantotto fuoco suonato tanto lo stesso non potevamo riempire non potevamo scappare non potevamo scappare dobbiamo scappare subito dobbiamo scappare 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 non potevamo scappare non potevamo scappare non potevamo scappare scoprire ci siamo fatti scoprire però va bene non potevamo scappare siamo morti dopo abbiamo ancora una vita abbiamo lì il borsone possiamo recuperarlo prima di lanciarci perfetto così usciamo a prendere almeno diciamo penso 200.000 in meno 800.000 beh eravamo in coppia forse è stato molto di più attra 20 attra 20 attra una cosa più velocemente qui nel momento che si è fatto tutto qui siamo quasi arrivati potevamo anche fuggire in un'altra parte finito l'errore è stato fatto perché io ho sparato quelle persone fuori al cancello poi lì quando poi dopo rubi la collana o il diamante viene ripristinato il corpo rimane per terra e poi si arrivano due guardie vedendo il corpo e poi fanno scattare l'alarma al cancello diciamo non bisogna sparare mai le guardie dopo il cancello 940.000 in dovrebbe dirlo in quanti minuti quanto l'ho fatto dovrebbe dirlo se non mi sbaglio ecco qua troviamo adesso in 12 minuti quindi 15 minuti si fa l'elite per dirvi l'ho fatto in 12 minuti e il gioco è fatto alla prossima ciao 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 io Grazie a tutti